Su Rete Quattro, distretto di polizia a quarta serie. Preparatemi. Un mistero molto inquietante coinvolge direttamente il commissario Giulia Corsi. Questa è merda. Questa è merda! Perché i suoi genitori sono stati uccisi? No! 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 Perché scavare in un passato così doloroso? Tu che cosa sai della loro morte? Con il rischio di scoprire verità sconvolgente. Corsi non ha mai dato quell'ordine. Giulia ha un segretto. Qualcuno della scorta lo ha tradito. Ma hai rivelato ai suoi fidati compagni di squadra. Non può essere i miei padri, il mio padre era quello! Distretto di polizia a quarta serie. Sabato 7 gennaio alle 21. Su Rete Quattro.